Filippo, sai molto bene che stare nella casa del grande fratello comporta delle responsabilità, soprattutto nei confronti del pubblico che ci segue e, lasciami dire, ci segue con estrema passione ed estrema attenzione. Nonostante questo, hai ripetutamente usato espressioni che, oltre a essere offensive, hanno violato le regole e lo spirito stesso del programma, oltre che, lasciami dire, le regole del buon gusto. È un'osservazione mia, non del grande fratello. D'accordo. Per queste ragioni la conseguenza è inevitabile. Sei squalificato dal gioco. Ti devo chiedere di abbandonare la casa. Va bene. Grazie. Anche a me, quindi devo andare a fare la valigia. Vado a fare la valigia. No, no, no. No, ma no, ma la devi fare adesso. No, no, e me ne ha dette anche tante altre che non sono andate in onda. Non devi sentire in colpa. Ma che stiamo scherzando? No, che si ribaltano le parti adesso. No, no, ma che stiamo scherzando? 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 Grazie a tutti.